bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video c'è veramente ridicolo come il buco del non possibile boscaiolo grazie di 30 vittini bello no 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 nonò poi vera molto fuori era lontanissimo era figa doveva succedere questo non serve non serve che scappi dal box Se sta al centro qui, fica la hit al sfogo Sotto c'è la pietra, non c'è legno E runni fa E runni è tornato, cosa c***o fa 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 Runni c'è un bastardo, bastardo, bastardo Proprio qua 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 Runni il bastardo cosa c***o fa facendo proprio qua E non ce l'ha fatto per cantare questo aller qua RUNNI 920 920 122 Ma come c***o è possibile E infatti è tornato E infatti è tornato, cosa c***o fa 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 Infatti è tornato, è arrivato, è fatto, cosa c***o fa 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 Infatti è che che cosa c***o sta facendo qua 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 Ma che non sono in grado, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio Sono sinistro top 50, è impossibile È fattibile Deve entrargli una bella partita credo eh Io sono fiducioso perché ha preso la 50 E Hardy è uno che con uno scar in mano è pericolosissimo Io vi prenderò un giorno e l'altro Vi prenderò un giorno e l'altro Benvenuto, oh ragazzi io ve lo ricordo eh Se avete Amazon Prime Tua madre è quella st***a maiala bastarda Della st***a Se avete Amazon Prime ragazzi Punto esclamativo Prime Lool Sono troppo forte col cecchino Minchia 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 Scusate scusate scuot Scusate Prisci Merda Non c'è l'armi, io sono spaventato a FF Non c'è l'armi, non c'è l'armi, non c'è l'armi Non c'è l'armi Non c'è l'armi Non c'è l'armi Orca banana Signori, questa cecchina è per voi Non c'è l'armi Non c'è l'armi Ho preso una chiave Che prima non c'era Impossibile eseguire Questa chiave No di puttata Pezzo di merda Pezzo di merda Cliston, tua madre Ci fincava le clave nel cu-po E poi sai che cosa diceva Yabadabadu Yabadabadu Che cecchina si è preso questo Ma come è possibile? Ti prego non dirmi che mi hanno visto Let's fucking go Noo solo che si fermano un secondo si chiama snap e che c***o ha fatto non ho capito c'è figa schioccato e partito il game che c***o fa ho il set glicemia con lo schermo davanti andiamo comunque mi vorrebbe da dire una cosa a questo punto mi dica risponda risponda chi io ma si proprio tu hai un abbonamento amazon prime minchia se ce l'ho ma allora lo sai che ti puoi abbonare gratis al tuo canale twitch preferito ma va e come faccio ma è facile ti basta solo digitare in chat punto esclamativo prime allora lo faccio subito i vantaggi i vantaggi i vantaggi veramente assurdi non vedi le pubblicità non hai la chat lenta utilizzi le emot personalizzate e puoi partecipare alla subday cosa aspetti scrivi punto esclamativo prime in chat e abbonati gratis al canale di pizza no bastardo bastardo no no questa è gravissima figa no che bastardo indicativamente intorno a settembre ottobre c'è un piccolo gruppo di monaci che arrivano direttamente dall'india ok mi citofano no ok e mi chiedono di insegnargli il segreto per mantenere la calma e raggiungere la pace interiore e questi vivono nelle montagne dell'india del tibet dove c***o abitano nel senso ma è vero eh e io gli dico fratelli la f***a e loro noi meditiamo accendiamo candele la f***a e 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